Non sapete che facci con le autocertificazioni modello vecchio che avete già stampato? Non c'è problema, le girate da quell'altra parte di foglio e ci disegnate il logo del quasi gaming. Poi me lo mandate entro il 3 di aprile alla casella email del canale, io le raccolgo, si fanno le votazioni, il più votato vince una lezione di difesa, uno contro uno, conference call via Skype, con Devin Booker. Ecco, questo è l'inizio del video. Ci eravamo lasciati qua, 323 a 321, ormai è un testa a testa serrato fino alla fine, io vi avevo chiesto dei consigli sulle rotazioni e voi giustamente mi avete detto Edo, rotazione 8 sì, ma anche no. E quindi io l'ho riallungata, siccome poi a Jim Boyle le cose gli vanno spiegate bene passo passo, coi disegnini, gli schemini, se no non le capisce, l'ho riportata a 10 cercando anche addirittura di rispettare i ruoli, ruolo per ruolo, in modo tale che lui anche impegnandosi non può le fare confusione. Anthony Davis, Matthew Ondoo, Kawhi, Jalen Brown e Damian Lillard, quintetto intoccato e intoccabile, però dalla panchina ridiamo minuti al bicchierone, a Willy il principe di Bel Air e poi ai tre giocatori che sono stati fondamentali fino ad ora in uscita dalla panchina, Pasquale, Iguodala e Devin Buer. Io direi che ci siamo, si va? Si va. 29esima giornata, torniamo a casa, Chicago, Illinois, United Center. Molti di voi mi hanno scritto sotto all'ultimo video dicendo vedo ma siamo quasi in fondo, siamo a tre quarti, che si fa poi quando è finito? S'allunga il campionato. Non si può allungare il campionato ragazzi, siamo mica il grande fratello che si aggiunge concorrenti, si tira avanti per fare audience. Non si può, il campionato ha questa lunghezza, sono 40 giornate pensato e strutturato così. Però, non vi preoccupate perché per il dopo quasi gaming ci sono già delle idee molto molto interessanti che per il momento non vi spoilerò perché ora c'è la partita, bisogna stare attenti, concentrati su quello che succede ma sono molto interessanti. Hawaii, subito deciso, uno contro uno, a chi ha fare la stoppata come se non ci fosse un domani. Ripigliamolo, ripigliamolo, c'è il monosciglio, l'ha preso, l'ha preso da dietro, l'ha stoppato come Lebron e l'ha ristoppato sulla stessa azione. Ragazzi siamo partiti con un incattivimento, vada che lavoro. Damiano, arresto e tiro, 2-0, siamo a casa, è cambiata la musica. Ma perché Devin Booker non c'ha pantaloni? Occhio, 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 un aiuto, un aiuto. Eh va bene, va bene, dai, va bene. Si sa, si sa, Lillard è in difficoltà contro Westbrook, uno contro uno. Però, vedi, vedi, gli siamo entrati in testa, come un tarlo Anthony Davis. Forza, ragazzi. Mancano 5 secondi, riceve Mefiondo e contro De Rosan dovrà forzare. C'è Damiano, lo trova, arresto e tiro da 3 di Damiano, per poco non fa canestro. Guardate che lavori, non si sa... Va, mi, gli siamo stati attaccati per 24 secondi, non c'è modo che possano fa canestro. Sa una difesa allucinante in questa partita. Vai Damiano, vai Damiano, lo step back, solo verde, Damiano Lillard, più 3. Eh ma così, arresto e tiro, vada che lavori. Il rimbazio, il rimbazio, è arrivato ancora Bonosciglio da dietro, sta facendo piazza pulita lì sotto. Oh, c'è Damiano, ancora lui, dalla stessa posizione, la mattonella di Damiano. Stavolta non è verde, ma vale 3 punti, 7 a 1, si è alzato anche il bicchierone. Ci vuole un aiuto, ci vuole un aiuto, tanto tira sempre lui, un aiuto, buono così. Vai Bonosciglio. Vai Damiano, vai Damiano, che questo è game time, ormai sei in trance. Il Bonosciglio contro Westbrook, portalo De. Ma perché, 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 ma se anche facevi canestro, era una scelta sbagliata a Monosciglio. Bisogna lavorarci su queste cose. Dagliela a Jelen Brown, gran passaggio di Damiano. Jelen è sempre nel posto giusto, al momento giusto, 9 a 1. Altro che time out, ti ci vuole un psicologo, coso. Eh, vada come ci crede Jim Boyle, hanno detto, oh, bah, ha giocato da matti oggi, eh. De Rosan vorrebbe attaccare, ma è una giungla lì sotto. No, gli ha fatto la McGee. Anthony Davis con la McGee, gliel'ha presa col braccio. E siamo già dall'altra parte. Kawai a schiacciare i più 10. Ma che lavoro ha fatto il Monosciglio? Loro tirano 0 su 9 dal campo. Occhio perché questo, eh, ma, 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 volevo dire, volevo dire, vabbè che tirano 0 su 9, ma è questo fa sempre canestro. Il post basso di Kawai contro De Rosan, si butta indietro come Kobe. Altri due. Kawai Leonard. Oh, sei acceso Damiano. Ma che è qui? La stella filante. Sei acceso alla stella filante a Damiano, ragazzi. Non c'è modo. Non c'è modo. È finito Jalen Brown contro Westbrook. Loro non sanno più che fare. Questo ora piglia e tira perché tanto... Eh, vabbè. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Dagliela alla stella filante. Dagliela. Lo sapete qual è lo schema offensivo? No, ha messo i piedi fuori. Ha messo i piedi fuori. Schermo offensivo è chi ha i piedi accesi deve ricevere palla. Sul primo secondo dell'azione. Questo è... Ragazzi, ci sa un altro con i piedi accesi. Ma c'è Leonard che va da solo. E fa verde appoggiato al tabellone. 15 a 6. Ci sa una ira in questa partita. Una voglia. Una garra. Che roba da matti. Pare difenda anche Devin Bucher. Michele... No, ora non esageriamo. Però, insomma, vero. Qualche cosa ci ha messo. Ci sarebbe Bucher. Vai, Devin. È il tuo appena entrato. Ma che... Eh, no. L'ha perso. L'ha perso. L'ha perso. L'ha perso. L'ha perso. Va bene. Vai, Iggy. Alzagliela al monociglio. Che lì la figlia va in cielo. Viene giù ogni bene. Forza! Devin Bucher. Fino in fondo. Con la mano sbagliata. Altri due. 17 a 8. Siamo agli ultimi 10 secondi del primo quarto. C'è Harrison Barthes che palleggia contro il Godala. Esce. Jamoran ma non riceve. Farà arresto e tiro Harrison Barthes. Perché fa sempre quello. Siamo alla 29esima partita. E ancora non si è capito che sulla sirena c'è Harrison Barthes che fa arresto e tiro dalla media. Non si è capito. Comunque. 17 a 10. Fine del primo quarto. Bah, dai. Quella è l'azione della partita. Cioè, prima ancora che finisca proprio. Dagliela a Pasquale. Dagliela a Pasquale. Va bene comunque. Solo verde. David Bucher. No. Che ha fatto? Che ha fatto? È impassito il Godala. Si vedeva, eh, che la voleva da lì. Pasquale. Qui ci abbiamo dormito. Monociglio. Vai in uno contro uno. Non ti può tenere Bobby Portis. Ma mai nella vita. Mancano 4 secondi, ragazzi. Bisogna tirare. Ha tirato il Godala. Non va. Il ribasso del Monociglio. Che si appoggia al tabellone. Sta facendo una partita. Che roba da mati. Occhio a Morano. Occhio a Morano. Dove è andato il Monociglio? L'ha ritrovato. L'ha ritrovato. Ma quante stoppate c'ha? Qui si dischi il record, eh, ragazzi. Vai, David Bucher. Ma perché ora si è presa al Zalla in questo modo? Non ci sa più JJ Reddy. Che non si può fare la liupe così. Come se niente fosse. La schiacciata del Bonociglio. E vabbè, vabbè, ragazzi. E qui non si può di niente. Manca il bicchierone. Cioè, gli è stato davanti. Questo da tre buttandosi indietro. Cioè, da due. Ma quasi da tre buttandosi indietro. Chi li ci mette a marcarlo? Godzilla. Io, io, boh. Willy, il principe di Bel Air. Che attacca. Poi con l'hesitation. Ma non va. Godala è tremendo. È tremendo. Gliela ha toccata. Poi faceva una chino. La chiapava. Ma va bene uguale. Si è recuperato il pallone. Siamo a più sette, otto. Quanti so? Sette. Bisognerebbe cercare di far canestro ora. Prima che rientrino i nostri big. Perché ora siamo senza gold in campo. C'è Willy, il principe di Bel Air. Che va a rubare il fallo di Westbrook. Con l'esperienza che non ha. Si guadagna due tiri liberi. Che giocatore. L'ha sbagliato. Ma come si fa? Westbrook si sente di poter attaccare. Il principe di Bel Air. È arrivato in bicherone. Gli ha dato noia. Pareva Nembo Head. Forza. Oh, oh, oh. Ma l'hanno sdraiato. Ma così per forza. Ma come si fa? Dagliela a Kawai. Dagliela a Kawai. È a posizione. Contro De Rosa. Se lo porta via. Non lo vede neanche. Ne appoggia due al tabellone. Di nuovo più otto. E guarda caso sono gli otto di Kawai. Westbrook è giovane e inesperto. Però è alto. Capito? E però voi fate sempre canestro. Voi prendete te e quell'altro. Ship e chop. Prendete e vi buttate indietro. Anche dall'altro campo. E fate canestro. E allora? La Kawai. Come l'ha avuta a noia. Questo era un fallo. Non l'hanno fischiato. Per due volte non ce l'hanno fischiato. Però Bada e Bicherone è tremendo. Gli l'ha toccata. E Kawai si allunga il contropiede. Ed è schiaccia due. Contro tutto e contro tutti torniamo a più otto. Principe è tremendo però. Però quest'altro è forte. Obiettivamente Willy. Te ci hai provato. Sei arto. Sei snello. Ma quest'altro è veramente forte. C'è niente a fare. Bada Buker. Che bella posizione agguerrita. E sta tenendo in panchina. Si vede proprio che è pronto a rientrare. Contro il Bicherone. Rispedito al mettente. Vai Gelem. Vai. Senza paura. È tiro giusto. Anche se è sbagliato. Va bene uguale. Ha avuto a noia. Prova ancora a riattaccarlo. Ragazzi. Questo è forte. Dai. È forte. Gran giocata di Damiano. Peccato. Peccato. Va bene. Se l'è messa sotto la spalla come un quarterback. Ma nessuno rientra. Dagliela a me Fiondo. Dagliela che hai mismatch. Ma dagliela prima però. Se gliela dai a un secondo dalla fine. E porro Cristiano. Che può fare. Ve l'ha fatto anche da Nestro. Bada che lavoro. Siamo agli ultimi 5 secondi del primo tempo. C'è Morana a attaccare contro Gelem Brown. Che si scansa e va via. Però arriva in monociglio. E gli fa paura. Anche soltanto a vederlo da lontano. E allora finisce. 30. A 27. Si è buttato via un po' una mezza occasione. Eh ma insomma. Per come si era partiti. Devo dire che si è un po' sciupato. Nel finale. Comunque stanno 7 stoppate a metà partita. Non te lo dice quanto è in alma a uno ciglio. Ma secondo me ci va vicino. Occhio. Cata me Fiondu come ha rubato il rimbalzo a Westbrook. Vai Damiano. Vai. E' tuo. Te lo mangi vivo in uno contro uno questo qui. Al resto è tiro. Dalla media. Ma non ti dà una soddisfazione neanche se lo paghi. E' progettato per non sbagliare mai. Non c'è niente da fare. Pick and roll. Track gold. Kawhi Leonard. Per Anthony Davis. Al resto è tiro di Kawhi. Solo verde. Torniamo avanti. Però ormai siamo punto a punto. 32 a 31. Bravo Jim Boyle. Che ci hai messo. Jalen Brown su Westbrook. L'hai capita? E gli hai fatto fare tipo 70 punti. Ma alla fine l'hai capita. Bravo Jim Boyle. Ora però bisognerebbe reggere anche gli ultimi 6 secondi d'azione. E' tremendo. Kawhi Leonard gliela toccata. In controtempo. Recuperiamo il pallone. Non si riesce a distendersi in contropiede. Perché Jalen Brown a un certo punto ha avuto un ripensamento. Si è fermato. Ci sarebbe Meffiondu. Che la riprende da sotto. Dal nulla. Dalla spazzatura della partita. Non era neanche un rimbalzo. Era un pallone a terra. Ma il più lesto di tutti. Il più rapido. Il più sveglio. Il più scaltro. E' stato Meffiondu. Che ci ha guadagnato due tiri liberi. Vedo Boyle che non hai capito proprio niente. Come io. Mi aspettavo. E' arrivato Meffiondu. Come io. Mi aspettavo. E' arrivato Meffiondu. Ha stoppato Westbrook. Si è recuperato il pallone. Ragazzi è finita. E' finita. Se ora Booker non ci rema contro. E' finita. Qui ci si dà l'allungo decisivo. Vai Booker. Vai Booker. E' il tuo momento. Dacci qualche gioia. Niente. Niente. Non c'è modo. Non c'è verso. Lui non ti rema contro. Tutto quello che ti può. Mancano 8 secondi. Però c'è Meffiondu. Che ha appena stoppato Russell Westbrook. La tripla di Hawaii. Per poco. Per poco ragazzi. Per poco. Occhio perché. Occhio perché. E' caldo. Occhio perché è caldo. Occhio. Occhio. Io se l'ho detto. Io se l'ho detto. E' caldo. Dagliela. Dagliela contro Westbrook. E' diventato il suo nemico preferito. Se lo porta a scuola. Il gancetto. Gancetto. Di vecchia data. Meffiondu a Benghele. Per i più 5. Che giocatore. C'è mancato niente. Io ti giuro che non c'è mancato niente. Che bissava la roba di prima. E poi ci si è preso 3 punti. Vai Buche. Questo è il tuo. Arresta il tiro dalla media. Verde e più 5. Comunque. Iguodala. E' una roba. Quando ti si mette davanti. Non lo levi mai. Vai Damiano. Imbeccato dai Iguodala. Non può sbagliare. Da 3 punti Damiano Lillard. Più 8. Dagliela al monociglio. Lally hoop. Per Anthony Davis. Che fa una mezza pirouette nell'aere. E schiaccia la doppia cifra di vantaggio. Time out Utah. Se in difesa a Devin Booker tu fossi la metà del giocatore che sei in attacco. Saresti un fenomeno. Stava per arrivarne un'altra pennellata di Anthony Davis. Va bene. C'è questo che piano piano sta raccimolando le solite cifre di sempre. Io lo sto vedendo. Lui zitto zitto. Macano gli ultimi 7 secondi del terzo quarto. Bisognerà inventare con Damiano in palleggio. Contro Moran. Arresto e tiro. Da 3 è la sua però. Questa è troppo la sua sulla sirena. Non va Damiano. Più 10. Ultimo quarto in arrivo. Forzatissimo di Damiano. Però va bene. Ragazzi ora giochiamo anche col cronometro. Bisogna gestire. Oh questo sì che è un grande accoppiamento. Booker contro Anthony Towns. Fortuna che non se ne è reso conto ma piano piano ce la fa. Badalo lì. Tra. E 3 punti. Vai Booker. Vai Booker. Vai Booker. Che è successo? Gli hanno dato un canestro buono. Eh peccato Godzilla. L'hai toccata quando non dovevi. Sono 3 punti per noi. Torniamo a più 12. Così. Arresto e tiro. Damiano Lillard. Solo verde. E ancora più 13. Difficile. Toccato da Kawai. Vai Damiano. Vai. Che è la tua. 2 tripla in fila. 6 punti di Lillard. In manco 10 secondi. Potrebbe essere la spallata decisiva. Potrebbe. Questo comunque. Questo. Vada come si dispera Pasquale. Dagli al post basso. Non lo può tenere mai nella vita. Kawai Leonard. Si svita sul fondo. E appoggia i probabili due punti della staffa. Più 16. 2 e 12 dalla fine. Io lasciavo un altro solo magari. Non proprio questo. Un altro a caso. Va bene tutti. Tranne lui e Godzilla. Vanno bene tutti. E Kawai però non ci sta. Si prende la linea di fondo. Va a schiacciare di prepotenza. Siamo a 16 di Kawai. Ha trovato un muro di cemento armato. E Kawai ci porta a casa altri due fili liberi. Questo è tecnico. Tante riserve in campo. Loro hanno messo Harris, Barton, Wendell Carter Jr. Noi ci sa. Addirittura Morris sarebbe fuori dalle rotazioni. Manca un minuto alla fine. C'è Willy Principe di Bel Air che attacca. Arresta e tiro. Non va. Tocca il bicchierone ma non controlla. Ragazzi per chi appare una schiacciata da Nemania Bielizza bisogna essere addormentati sodo. Loro addirittura raddoppiano su Kawai. Il bicchierone trova Jalen Brown. Come si gioca. Come si gioca. Facciamogli fa un altro punto però ragazzi. Perché ci si guadagna un'estrazione. Quindi vediamo di non difendere. Loro non possono tenere palla. Quindi devono tirare. Io proprio mi scanserei. Ci vorrebbe Booker in questo momento. Ma come? Ma guardalo. Guardalo. Tocco magico di Kawai. Bisognerebbe farli tirare. Ma secondo me loro non tirano. Ma figurati te se tira Barton. Tira. Niente. 49 a 65. Però va bene. Dimostrazione di forza. E se vinto tu. Siamo tutti gialli. Se vinto tutti noi. 20 di Kawai Leonard. Con 4 rimbalzi. E 3 stoppate. 18 di Damiano Lillard. 6 punti. 11 rimbalzi. E 6 stoppate di Anthony Davis. Può bastare. 21 di Westbrook. E quando Paul ti dà noia tutte le volte. E' riuscito a battere Leonard nella classifica dei punti. Si è ridimensionato un po' anche Godzilla stavolta. Bene bene bene. 65 a 49. Ci vale 29 punti questa vittoria. Perché eravamo in vantaggio. Seppur di un non nulla. Adesso siamo 352 contro 321. Per quel che riguarda i singoli. Miglior realizzatore della partita Russell Westbrook. Che va a riprendere RJ Barrett in testa alla classifica dei migliori realizzatori del campionato. Nei rimbalzi Anthony Davis. Partitona di Anthony Davis. Che è presente anche nei recuperi e anche nelle stoppate. Dove tra l'altro fa segnare il record ogni epoca per stoppate su singola partita. 6. Battuto il record di Carl Anthony Towns di 5. Che reggeva dal 23 gennaio. Quindi sono due mesi abbondanti di record. L'ha battuto come se fosse niente. Negli assist Drew Holiday. Nei recuperi una sfilzata di giocatori. Tutto questo ci porta alle seguenti modifiche per quel che riguarda la classifica degli MVP. Inarrivabile Carl Anthony Towns. Meffiondu è sempre il primo per quel che riguarda noi. Però sale anche Anthony Davis che arriva a quota 10. Poi Westbrook, il bicchierone anche ripreso a salire e tutti gli altri. Detto questo si passa alle estrazioni. Noi abbiamo segnato 65 punti. Quindi per loro che hanno perso ci saranno 12 estrazioni. Loro ne hanno fatti purtroppo soltanto 49. E quindi solo 4 a nostra disposizione. Occhio! Quanto c'ha Drew Holiday? Mi sa che regge lui. Ma questo lo vorrei io ragazzi. Oh, anche questo non è male. Loro c'hanno però Draymond Green. E mi sa che la vince ancora Draymond Green. Ora si guarda. Com'è andata? Ma insomma, insomma, ci sono state due belle uscite. Perché Zach Lavin e Tobias Harris sono due gran bei giocatori che io avrei voluto. Soprattutto Zach Lavin. Però loro non se li possono tenere. Perché 85 è Lavin, 86 è Drew Holiday. 85 è Tobias Harris, 86 è Draymond Green. Quindi non c'è modo. Loro non cambiano nulla. Perché poi hanno Eric Gordon 77. Ma la peggior guardia Gary Harris 79. Torian Prince 77. Ma la peggiore è la piccola. Will Barton 78. Noi non si è pescato praticamente nulla. Ora io so benissimo che qui sotto nei commenti qualcuno vorrebbe il ballottaggio tra Markel Fultz e Will il principe di Bel Air. Però ragazzi, Fultz è piccino. Io non lo so. Facciamo che se proprio lo volete scrivetemelo in massa. E ne parliamo la prossima settimana. Altrimenti io sinceramente rimarrei così. Per il resto noi ci rivediamo domani con la quarta giornata del Decamerone. Non vi potete manco immaginare lontanamente di che cosa parleremo. E lunedì di nuovo con il Quasi Gaming. Trentesima giornata al termine della quale si farà un po' il punto della situazione. Perché saremo ufficialmente a tre quarti di stagione. Grazie. 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 Grazie.